Ed ecco il nuovo Consiglio regionale nella composizione ufficiale del Ministero dell'Interno che ha ufficializzato i consiglieri regionali eletti in Abruzzo. La nuova Assemblea, maggioranza centro-destra, sarà composta da 10 rappresentanti della Lega, 3 di Forza Italia, 2 di Fratelli d'Italia, 1 di Udcdcidea, 1 di Azione Politica, 3 del PD, 1 della lista Legnini Presidente, 1 di Abruzzo in Comune, 7 del Movimento 5 Stelle. La Lega porta all'emiciclo, quindi Emanuele Imprudente, Simone Angelo Sante, Pietro Quaresimale, Emiliano Di Matteo, Antonio Di Gianvittorio, Vincenzo Lincecco, Nicoletta Verì, Nicola Campitelli, Emanuele Marcovecchio e Sabrina Bocchino. Forza Italia riporta in Consiglio regionale Mauro Febbo e Lorenzo Sospieri confermati, fa il suo esordio invece Umberto D'Annuntis. E Fratelli d'Italia a fare il suo esordio all'emiciclo con due consiglieri Guido Liris e Guerino Testa. Un seggio a testa poi per Udcdcidea e Azione Politica. Lo scudo crociato porta in Consiglio regionale Marianna Scorcia, che però non farà parte della maggioranza dopo le note vicende delle liste, ha confermato Marco Marsilio a risposta dei cronisti. La lista Lizelli porta invece in Consiglio Roberto Sant'Angelo. Nel centro-sinistra eleggono proprio i rappresentanti, solo tre delle otto liste che componevano la coalizione guidata da Giovanni Legnini. Antonio Blasioli, Dino Pepe e Silvio Palucci saranno i componenti del gruppo DEM. Americo Di Benedetto rappresenterà la lista Legnini presidente, la lista degli amministratori a Bruzzin Comune conferma l'emiciclo Sandro Mariani. Il Movimento 5 Stelle nei piazza 7. Sara Marcozzi, Pietro Smargiassi, Francesco Taglieri, Sclocchi, Domenico Pettinari, Barbara Stella, Marco Cipolletti e Giorgio Fedele. La maggioranza è composta da 17 consiglieri, a cui si aggiunge il presidente Marco Marsilio, la minoranza da 12.